Uccise Cattedello Marino a Martellate nella notte tra l'11 e il 12 luglio 2016 lungo il attorrente Afra alle porte di Sansepolcro, adesso Peter Appolverino, un 27enne Aretino è pronto a richiedere alla Corte di Cassazione un ulteriore sconto di pena. Quella drammatica notte, i due si appartarono per consumare un rapporto sessuale, la furia omicida scattò al culmine di una lite per pochi euro. Il giovane, dopo essersi rifiutato di consegnarle più soldi, si sentì infatti minacciato, temeva che la donna potesse raccontare in giro del loro incontro intimo. La presa pugni, poi tentò di strozzarla ed infine la massacrò colpendola con un martello ripetutamente alla testa, poi l'abbandonò sul greto del torrente. Fu arrestato due mesi dopo dai carabinieri. Peter Appolverini era stato condannato, corrito abbreviato a 16 anni in primo grado, poi ridotti a 14 in appello. Attualmente si trova rinchiuso nel carcere di Orvieto, adesso il caso arriverà in Cassazione. Abbiamo profudo tutte le nostre forze, vedremo se la Corte di Cassazione venendo incontro, accogliendo le nostre richieste, opererà un'ulteriore riduzione a quella che è la pena che è stata data appunto a Peter. Il tentativo della difesa è quello di far cadere l'aggravante della minorata difesa, che è stata considerata equivalente al parziale vizio di mente del quale soffre il giovane come emerso da una perizia psichiatrica. Il contesto nel quale si sarebbe svolta la vicenda, il giudice ha ritenuto che questa attenuante non si fosse concretizzata e l'ha respinta. Noi abbiamo ritenuto di proporre anche in sede di legittimità, non solo di merito, le nostre ragioni. Vedremo quello che saranno i risultati.